Ma lo sai, non so perché, ho pensato molto a te ultimamente e mi chiedevo che fine avessi fatto. Come vedi, sto benissimo. E poi ho ripensato alle nostre conversazioni e mi sono detto, a Serge potrei proporle qualcosa. Non ha niente a che fare con il lavoro, spero. Un po' sì, lo ammetto. Ah no, non provarci neanche, io ho chiuso con il cinema. Nemmeno se venisse Spielberg a propormi un copione, no. Guarda che ne faccio, ci accendo il fuoco. Ah no, 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 non parlavo di cinema. Io ti parlo di una commedia. Come una commedia? Se ti proponessi una commedia a teatro. Cioè vuoi dire un ruolo in una commedia? Eh sì, diciamo un ruolo in una commedia. Ma sei diventato matto. Sono anni che non salgo su un palcoscenico ormai. È finita per me, ci ho messo una pietra sopra. No, aspetta che ti dica il titolo della commedia. Ma non mi interessa il titolo della commedia. Tanto è finita per me. Il teatro, il cinema, tutto è finita. Questo mondo di topi di fogna, di gente volgare, che mente, che tradisce. No, 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 no. Qualcuno che si comporta bene c'è ancora però. Ah, davvero? Chi per esempio? Fammi un nome. Io. Io mi comporto bene. Tu? Ah beh, beh, allora ammettiamolo. Diciamo che sei l'eccezione. Diciamo che sei l'eccezione. Grazie a tutti